La Regale Abbazia di Santa Maria dell'Alto ha partecipato nei censimenti del FAI degli anni scorsi. Il censimento avviene ogni due anni, coinvolge luoghi importanti, città, luoghi del cuore, cioè luoghi di affezione. Viene lanciato un censimento in tutta Italia, ognuno può votare sia per iscritto attraverso delle schede apposite, sia soprattutto per digitale, in via digitale. Quello che è importante per questa iniziativa è la sensibilizzazione dei luoghi, soprattutto quelli magari meno conosciuti o conosciuti a livello locale, come per la Regale Abbazia di Santa Maria dell'Alto, che è poco conosciuta. In verità questo luogo è molto importante, è la prima chiesa costruita con la riconquista normanna. È qui in un luogo che domina Mazzara del Vallo, ed è un luogo in alto che in qualche modo riprende sia il cognome del fondatore, che si chiamava Alta Villa, sia la posizione geografica. È dedicata alla Madonna Assunta e un tempo, il 15 giugno, questo posto era affollatissimo. Le caratteristiche storiche sono straordinarie. Stiamo parlando di quasi 950 anni di vita, della presenza di monaci greci, poi dei cavalieri di Malta. Insomma, attorno a questo posto ci sono grandi suggestioni, poche delle quali però sono rimaste. La grande tragedia della Regale Abbazia è l'incuria nella quale è stata lasciata, specialmente negli ultimi 200 anni. Prima era davvero un centro straordinario. La sua caratteristica è quella di essere una chiesa fortezza, infatti c'è un bastione che la protegge a sud, di essere memoria di grandezze che sono diventate locali perché Mazzara e la Madonna dell'Alto erano al centro di grandi interessi sociopolitici, geopolitici, come è avvenuto per i cavalieri di Malta. È dalla fine della presenza dei cavalieri di Malta che c'è stata una lenta e continua decadenza. Cosa resta dell'antico? Uno stemma del 1401, due affreschi, o meglio ancora due pitture su un muro bizantine, pochi argenti dell'epoca dei cavalieri di Malta. Ma devo dire che i documenti ci sono, sono presenti all'archivio di Stato di Palermo e speriamo presto di poter avere una storia che sia documentata rispetto a tutte le storie che finora si sono fondate semplicemente su un rimando di memoria. Il suo stesso nome è di Santa Maria delle Giumare e probabilmente è un equivoco. La Giumare infatti non è la palmanana, le Giumare sono le canne perché la parola Giumara al singolare significa fiumara e indica un luogo pieno di acque. Dunque è tutto da studiare ancora e speriamo che ci siano grandi risultati da future indagini nel sottosuolo della Chiesa per appurare se troveremo delle grotte. Stiamo parlando cioè di un grandissimo documento di storia, di religione e di arte che vorremmo davvero fosse al centro di nuovo del cuore dei mazzaresi. Grazie a tutti.